amici miei come ben sapete sul canale ho sempre portato me stesso le passioni che contraddistinguono la mia vita quindi il cinema la comicità beh su questo canale non ho mai parlato dei cesaroni che è una fiction media set con cui dal 2006 in poi sono veramente cresciuto nel 2006 avevo 11 anni e poi mi ha accompagnato fino al 2014 quindi sei stagioni che sono state capace di appassionarmi di coinvolgermi di deludermi perché non è sempre oro tutto quel che luccica e quindi dopo una sesta stagione che aveva lasciato me e tanti altri fan con l'amaro in bocca dopo tante certezze distrutte a distanza di 10 anni da quel 2014 c'è stata la conferma da giugno 2024 inizieranno le riprese della settima stagione dei cesaroni lo ha confermato antonello fassari in un'intervista lui tornerà così come a mendola che aveva lasciato intendere che questa stagione ci è stata dalla toffanin avverissimo ora cerchiamo di capire quanto questa stagione possa essere sensata effettivamente se servisse per tappare tutti quei buchi per sistemare tutte quelle disastrose scelte che han fatto nel corso delle ultime stagioni ma soprattutto nella sesta allora tanto di cappello il me fan il me ragazzino che è ancora pronto ad appassionarsi a divertirsi con la famiglia cesaroni è ovvio che ripensando al passato e immaginando di rimmergersi nel clima dei cesaroni nel mondo della garbatella è contento però vorrei che questa settima stagione di cui non sappiamo niente servisse per concludere dignitosamente quel che di folle è invece successo sbaragliando le carte in passato perché se andassero avanti portando avanti quei problemi allora sarebbe reiterare un qualcosa di sbagliato e che i fan non vogliono prima di giudicare bisogna osservare quindi io sarò felicissimo di seguire la lavorazione della settima stagione soprattutto capendo chi tornerà nel cast perché se già non ci fosse Elena Sofia Ricci e cioè Lucia Liguori come già si vocifera sarebbe un problema grosso perché i cesaroni si basa soprattutto sulla storia d'amore fra Giulio e Lucia già nella sesta succedeva una cosa che dicevi ma com'è possibile cioè tu mi spezzi alla base il senso l'essenza dei cesaroni con figli che spuntano all'improvviso con il matrimonio saltato con una nuova fiamma nella vita di Giulio Cesaroni la sesta stagione no poi ovvio il Paolo del 2014 non riusciva a bocciarla ma perché era un Paolo che bastava ci fosse i cesaroni in televisione quindi apprezzava tutto col senno di poi con uno spirito critico che è andato crescendo ma soprattutto con anche la voglia di rivedere l'intera serie dei cesaroni per prepararmi alla settima potrei cambiare ridimensionare la mia idea i miei pensieri a riguardo però sicuramente anche senza ancora aver rivisto tutte le stagioni cosa che farò tanto il tempo non manca mi auguro che nella settima si sistemi quel che è accaduto fra Giulio e Lucia perché altrimenti sarebbe tutto molto insensato certo la sesta risulterebbe ancora di più un qualcosa di inutile però meglio rendere la sesta stagione sotto certi aspetti inutile che continuare una storia che è proprio andata fuori strada rispetto ai canoni imposti dalle prime belle stagioni dei cesaroni perché fino alla terza secondo me eravamo veramente sulla buona strada è una serie i cesaroni per grandi e piccini con tutti i limiti delle fiction mediaset però fra le fiction di canale 5 è sicuramente una delle migliori poi vi deve piacere ci mancherebbe lo sapete a me piace anche il cinema la serialità tutte queste cose più leggere per tutta la famiglia non sono uno di quei cinefili che guarda solamente il film d'autore lo sapete io spazio dai cesaroni a martin scorsese però visto che la mia emozione è tanta di fronte alla conferma del ritorno dei cesaroni speriamo che facciano le cose fatte bene per quanto riguarda il cast se su alcuni nomi abbiamo dei dubbi beh sono certo che matteo branciamore che possiamo trovare attualmente in enea di castellitto film bellissimo sono convinto che matteo branciamore ritorni così come nicolò centioni nei panni di rudy così come micolo olivieri nei panni di alice ma secondo me anche ludovico fremont nei panni di walter ezio masetti il nostro max tortora che da mesi e mesi pubblicizzava delle storie sui cesaroni io dicevo ma perché anche lui per me tornerà così come abbiamo la conferma di antonello fassari e claudio mendola resta da capire il personaggio di sofia i personaggi di nina tutto il resto perché l'unica che per ora ha detto non tornerò e alessandra mastronardi che ha rivelato io ho già detto tutto con quel personaggio non avrebbe senso il ritorno non credo cambi idea beh sarebbe bello rivedere anche solo per un'ultima volta tutti i protagonisti ma mi sa che questa cosa ce la sogniamo resterà da capire che progetto sarà se da 26 29 episodi come le stagioni che andavano dalla prima alla quinta perché ricordiamo che alcune arrivavano quasi ai 30 episodi oppure una cosa più breve tipo la sesta da 12 che è stata un flop quindi il mio parere è questo nel frattempo recupererò le puntate rivedrò volentieri tutte le puntate perché indipendentemente da questa conferma erano anni che avevo voglia di immergermi nuovamente nel mondo dei cesaroni perché potrò anche ridimensionare certe cose magari la rivedrò con un po anche di spirito critico ma con il ricordo di un paolo molto più ingenuo sono convinto che almeno le prime tre stagioni continueranno a piacermi ma seppur potrei essere più critico credetemi non c'è notizia più bella per me cresciuto con questa serie che scoprire che se ne farà un'altra e speriamo che poi i prossimi anni non dovrò visto che le seguirò nelle mie recensioni tutte le puntate non dovrò pentirmi di aver detto questo dicendo no era meglio che si restasse con quel finale tronco della sesta e non riuscita ultima ora come ora stagione quindi niente ragazzi fatemi sapere la vostra nella sezione commenti ditemi se anche voi l'attendete cosa potreste attendervi da una settima stagione nel caso tornassero i personaggi principali e se invece così non fosse anche federico russo ovviamente secondo me tornerà e nulla era importantissimo parlare dei cesaroni perché non era mai capitato di farlo prima ma è una serie possiedo tutti i dvd originali tutte le stagioni era una serie che mi ha fatto crescere che mi ha accompagnato che mi ha regalato tante emozioni che poi avevo comprato i libri cd di matteo branciamore o tutto dei cesaroni quindi è bello ritornare un po all'infanzia un caro saluto e parliamone qua sotto cosa vi aspettate soprattutto deve ritornare la sigla storica pentole e bicchieri sono lì da ieri ciao